534 casi di covid negli ultimi dieci giorni. Solo il territorio di Lecce, con il doppio degli abitanti, ha fatto registrare un numero più alto di nuove infezioni. La provincia Bat finisce sotto i riflettori per l'impennata di contagi fatta rilevare nel mese di agosto. Barletta, la città più colpita, con circa 200 casi attivi, seguita da Trani, Andria e Biceglie. Più contenuta la situazione nei piccoli comuni, tutti sotto la soglia dei 20 contagi. La Puglia ha fortunatamente il dato sull'incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100.000 abitanti tra i più bassi d'Italia, ma anche in questo caso la provincia Bat è in netta controtendenza rispetto al resto della regione. L'ospedale di Biceglie ha nel frattempo riaperto le porte agli ammalati di covid. Due le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, l'ultimo arrivo è di un 81enne non vaccinato trasferito dal reparto di malattie infettive. Dalla ASL fanno sapere che i ricoverati per covid sono saliti a 26 nelle ultime ore. 19 si trovano nel reparto di malattie infettive, 7 in area medica, tra questi anche tre bambini. Negli ultimi tre giorni, spiegano dall'ospedale, ci sono stati 7 nuovi ingressi di pazienti colpiti dal virus. In 5 casi si è trattato di persone non vaccinate, 2 invece i ricoveri di anziani che avevano completato la seconda dose di vaccino tra i mesi di marzo e maggio.